La dottoressa Yolanda Lotta, vice sindaco di Leporano, prosegue la lunga serie di eventi previsti dal cartellone estivo restate a Leporano, 48esima edizione del torneo dei Rioni in onore di Sant'Emidio, il santo patrono, sport e sociale insieme. Sì, abbiamo proprio voluto coinvolgere nel calendario dell'estate Leporanese, c'è stato questo connubio quest'anno con il delegato alla cultura ma anche alla sanità Francesco Fusco e il delegato allo sport Gianmarco Fanelli. Questo cartellone è diventato così ricco dove proprio questa serata, ad esempio, abbiamo anche messo all'interno del nostro cartellone lo sport, il sociale ma anche la sanità ma tanto 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 spettacolo. L'estate Leporanese continua ancora, abbiamo tanti altri appuntamenti quali ad esempio adesso abbiamo i festeggiamenti in onore del santo patrono, poi abbiamo il 7-8 il corteo storico medievale, il 9-10 vive il Medioevo e poi abbiamo il 9-10 quella la chicca che è in musica nei vicoli dove poi continua ancora per il 13 la pizzica e il 16 i palasport con i Poo. Ma tante, tante, tante altre novità fino al 4 di settembre. Non c'è che dire, restate alle porane. Restate alle porane. Non c'è che dire, restate alle porane.